Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella SkyBlock! Sì, siamo tornati con un obiettivo brevemente in mente Prendere lo studiare e creare un portale del nether qui nella terra ferma Cioè non qui nella terra reale, ma nel gioco Tu hai un brutto vizio che parli a gettoni No, no a gettoni, oggi dobbiamo andare dove? No, no, devi dirlo dove dobbiamo Io ho bisogno di ricarica, ragazzi Sì, se lui non mi infila i gettoni, non in quella parte, mi raccomando No, cura! Io non sono carico Sì, sì, dobbiamo andare Dobbiamo andare E ho scoperto una gran cosa, gran cosa E anche lui l'ha capita Vabbè, perché diciamo che abbiamo iniziato assieme Guardati alle spalle, usciamo da casa Cosa? Cosa hai detto? Guardati alle spalle, non ho detto guarda No, iniziamo a fare l'ossidiana Qui fuori casa non c'è bisogno di andare in una grotta perché l'abbiamo Guardate ragazzi, se noi non cadiamo, l'ossidiana la facciamo qui, però La cosa bella è se non cadiamo No, 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 allora io direi un po' di lava preserviamocela Quindi prendi la pietra Ma ce l'abbiamo un vecchio? Però se per no preservala andiamo a prendere un po' di pietra Sai come può sempre servire tipo da cestino, no? Sai che con la lava ti butti la cosa e scompare No, prendi la pietra? Sì, sì Prima che esce il gold, prima che esce il gold, via, via! Che succede con il gold, non lo perdiamo No, se le vacca chicco, ma possiamo chiuderla? Vedi un po' te, bravissimo, così, così Uno, due, e tre, magari due di lava possono bastare, perfetto Ora tu prendi l'acqua e la butti precisamente in questi blocchi di pietra che hai perso Sì Ossidiana free gratis! Riprendi quest'acqua Cioè quando si sblocca Qua Che cazzo? Mi sono cagato a cosa È morto Un coniglio Prendiamo l'acqua? Sì, questa qua Perfetto Ecco l'acqua Andiamo lì, andiamo lì Però io non vorrei che No, no, non lo togli Mi sa che è qua se fa Scava l'ossidiana qua, questo blocco Voglio vedere se c'è della lava sotto o no Metti la pietra qua Oh, oh shit Dove? Qui Nonzi Hai capito dove? Nella lava Ah perché può andare Sì Perfetto Ora rompi questa Facciamo queste qua e dovrebbero essere belle che fatte Prima blocco d'ossidiana preso Che si fa con l'ossidiana? Allora, o puoi fare o il portale del nether O il tavolo per incantare e non incantare la roba Già, mi piace Già, ti piace come parlo E poi non è una più palidea Tu salto di fare con l'ossidiana Già, il semplice fatto che possiamo farci un tavolo per incantare È una buona No, non è un Cioè, non è un Oh, shitting Metti là Lava Cioè, pietra No È un problema È un problema sì È un problema sì Sai come si può risolvere questo problema? No, no Semplicemente prendi il secchio d'acqua e buttalo di nuovo qua Qua sotto, qua Sì E ora scava questa che c'hai sotto E non dovrebbe cadere Cioè, è pur vero che dobbiamo faccire La dovete scavare Questa qua Questo? Però stiamo Aspetta Ok, ora Dovrebbe cadere se c'è la lava sotto Arriva prima l'acqua che fa diventare ossidere la lava E così non la perdiamo, capito? Tu sei un ingegnere Eh sì Però non l'ho inventato questa cosa L'ho vista in quattro video Forse ci sei riuscito, amico mio Vedi? Vediamo se ne abbiamo due Quattro? Quattro? Quattro Abbiamo staccato i quattro? Quattro Ne bastano Posso rompere normale Sì, sì Ne bastano dieci Ci servono anche due diamanti e un libro Quindi posso aspettare Diamanti li abbiamo Uno Cavolo Vedi che è servito? Cavolo, ma... Questo rompi It's a problem It's a problem Appena troveremo un altro diamante Ma perché cazzo? Aspetta un attimo Io sto continuando a menare Ma perché cazzo? Ok, ora Appena troveremo un altro diamante La prima cosa che facciamo è fare il tavolo per l'incantagione Perché è utile per l'incantare piccone, spada e tutto quanto Si possono fare i biscotti all'amunino bianco No, quelli dell'amunino bianco Ci vuole la gallina Perché non ci hanno preso il produce-placement qua Come cazzo? Però cosa? Oh, vedi che io ho la licenza poetica Posso dire quello che vuoi? Produce-placement Produce-placement Ora mi piace Produce o prod? Product-placement Product-place Product-placement Noi in inglese abbiamo un bellissimo rapporto Aspetta noto Sai cos'è che cosa ti fa parlare in questo modo così? Strano? Cosa? Le nostre magliette incantate Le nostre magliette incantate? B.I.C., guardate ragazzi Tag Life Intanto lo fai tu perché io non ho voglia Lo sai che ci serve per il portale? Un bell'accerino Acci... Acci... Acciari... No, come cazzo lo chiama? Acciarino 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 Vediamo se abbiamo un blocco Un lingotto di ferro Non abbiamo un lingotto di ferro Andiamo... Si deve trovare del ferro Andiamo a cercare del ferro Perché ammazzare il golem e prendere del ferro non mi sembra giusto Ma perché è così bianco? Aspetta ma tu sai che cosa ci serve? Ci serve la ghiaia Questa non è ghiaia, è diorite Non dire bestemmia Non bestemmia Ci serve la ghiaia ragazzi A fare, a fare Per trovare la selce Questa è la ghiaia Questa Per trovare la palla Ma io vedi che sono preparato Non abbiamo la palla Però vabbè La palla si può fare tranquillamente In qualsiasi altro momento Appena tu vedi qualcosa di nero Che esce Eccolo Apposta Basta uno Perfetto Eccolo Ora dobbiamo trovare un lingotto di ferro Cioè un lingotto Un po' di ferro grezzo E che è quello che non abbiamo Quello che non abbiamo Cioè scavengio Scavengio tutto 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 Però stiamo consumando Sto cavolo di cosa di amare Ma ancora guarda quanta vita ha Sì però è meglio risparmiare È meglio risparmiarlo Però poi se lo incantiamo Lo possiamo anche riparare Se ci facciamo un incudine Magari in futuro E buonanotte A sto punto Andiamo all'altezza 12 E buonanotte Facciamo Facciamo quello che non si Oh Ah Attenzione Potrebbe Eccolo Ferro Sì Ah Prendilo tutto Metti a cuocere il ferro grezzo Subito signore Dov'è Diorite Diorite E ora metti a cuocere pure Il pinguino Stavo dicendo Il coniglio Metti Abbiamo pure la pelle di coniglio Non mi ricordo a che serve Vedi Ah Apri Aspettiamo che si fa un Un carto d'oro Ah a posto Uno Metti in diagonale La selce e l'ingotto d'oro Di ferro Di ferro Il carbone Il carbone più bello Ed ecco qui il lacciarino Facciamolo qui Fammi allargare Boh Boh Non allargare Fai una bella cosa Non fare niente Sai che devi fare Allora Con la pietra Fai il contorno Il perimetro Vai Quanto lo vuoi fare largo Fino a questa terra Magari Dai Perché non mi fa saltare È incastrato Le foglie dell'albero Allora Il portale è largo Tanto poi Un minimo La spasseremo Questa cobblestone Fuck Fuck Vai E Aspetta Non fare nient'altro Ma chi ti tocca Ma chi ti caca Devi dire Aspetta Guarda Guarda questo Questo perimetro Rompi queste due Di terra sotto Due di terra Di terra Uno E due Mettile Prendi delle cobblestone Ok Due Uno Due Tre Ok Prendi l'ossidiana Ossidiana 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 Posto le frecce O del secchio Mettile in questo buco Buca Buca Qui Poi Vai qui Sotto i tuoi piedi Sotto i tuoi piedi Sotto i tuoi piedi No No Tre volte Tre Uno Due Tre stoppi Ecco pure Sì Uno Due Tre Prendi la cobblestone La cobblestone Mettila qua Sopra 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 Qua Una qui E mettici sopra di questa L'ossidiana Uno e due Ora rompi questa cobblestone Che già sta cosa l'avevamo fatta Sì Nell'isolotto però Non nella terraferma Sì Sì Ma ci ti retrasporto Nella Bellissima Ora se tu vedi anche Incastonata sottoterra Che è un teletrasporto Questo potrebbe fungere Da teletrasporto Si può fare Ma l'isolotto Non lo so Sai che forse Ora vediamo Ora vediamo Sarebbe una cosa utile Però sai che facciamo Copri il dietro Così a che ci siamo Facciamo anche Diciamo Come lo copro il dietro Così Continuo a fare Continuo a fare Il muro di pietra Ok Stessa cosa Oh cazzo ho mancato l'acqua Scusa Prendi Prendi All right Uno e due Uno e due Si sta facendo la notte Ma non importa Tanto ora entriamo Nell'anello Nel nether Nel nether Ok Nera L'altra parte Nel nether Ma noi armatura come siamo messi Abbiamo niente Abbiamo quella d'oro Ci manca Ci manca solo La giubba 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 Perfetto dai Acciarino Acciarino Ma vuoi uscire Da qua Cazzo Dovremmo fare un buco Un buco qua O una porta qui magari Abbiamo una porta L'abbiamo dentro Fammi fare un buco lì Fammi fare un buco qua E qua non incocciamo niente No che culo Io sono un architetto Va bene Va bene Però io mi scanto se dovrebbero uscire Brucia Brucia La porta Brucia No no Abbiamo le due porte Pia qua e mettiti una porta No sai perché Perché se Se dovessero uscire dei pigmen Ti ricordi che sono dei pigmen Dal Dal portale Perfetto Chiudi e accendi la porta Con l'acciarino Ta-da Si entra Ti ricordi l'intrallazzo Che abbiamo fatto Quando Quando siamo Io avrei postato No Minchia Lo sapevo Ci tenete la porta qui E' una cosa bella Non lo so Perché se no non usciamo Dove ci fa uscire Se ci fa uscire nell'isolotto È una cosa buona Perché non abbiamo creato un portale Ragazzi abbiamo creato un teletrasporto Ragazzi abbiamo creato un teletrasporto Tutto secondo i piani Però abbiamo creato un teletrasporto Che ci porta da lì a qui E da qui a lì Vediamo Vediamo Ragazzi non lo so Non credo forse Sai Ragazzi se Diteci voi il perché Di tutto ciò Nel frattempo i funghi non sono cresciuti Quindi abbiamo anche controllato Ti prego Ti prego Ti prego No ragazzi Però è utile Perché comunque è un tragitto Non Cioè Non abbiamo fatto solo Non abbiamo fatto solo Dovevo fare solo l'andata In ritorno ce lo possiamo fare A teletrasporto Quindi io concluderei qui Io concluderei qui Con una promessa Promettiamo che Allontaneremo di qualche Centiniera di blocchi Più in là Nella terraferma In modo tale che facciamo anche il portale Per vedere il nether Nella terraferma O addirittura Faremo un ponte nel nether Nella terraferma Che ci porti al nether Nella terraferma Così facciamo un teletrasporto No Vabbè dico semi teletrasporto Semi teletrasporto Quindi vi promettiamo questo Lasciate like Condividete E piaceteci Si può dire piaceteci? Si Piaceteci tanto Like Come dice? Non so Non credo che l'inglese ci sia una cosa I like Beats Ciao